Ben trovati a questa nuova puntata di Talk Sicilia, oggi attraverso l'opera di una scrittrice e affronteremo un tema importantissimo per Palermo, racconteremo un personaggio davvero unico che è stato davvero poco, però ha lasciato davvero tantissimo nel nostro capoluogo. Erano anni terribili, anni di morte, eppure attraverso la penna della nostra gentile ospite Maristella Pane Pinto, giornalista collega, che ha scritto il libro Carlo Alberto della Chiesa, Il papà dei carabinieri, ripercorreremo proprio quella figura. L'idea è stata, secondo me, importantissima ed è geniale, quella di arrivare direttamente a chi dovrà avere memoria per contrastare, per lottare contro la mafia in maniera assolutamente efficace e duratura, e quindi le nuove generazioni. Quindi raccontiamo questo libro, appunto, scritto sul generale, sul generale che è arrivato a Palermo, e com'è venuta fuori questa idea? Innanzitutto ti saluto. Grazie Ignazio, buon pomeriggio, buon pomeriggio ai telespettatori. L'idea è nata in maniera molto, molto casuale. Io a Palermo, da qualche mese, su input della scrittrice Simonetta Agnello Orbi, ho creato un club del libro, un club del libro per donne, club del libro alla londinese, e una nostra collega, Elvira Terranova, mi propose di leggere nel nostro club il libro di Simona Dallachiesa, Un papà con gli alamari. Casualmente ho sentito Simona Dallachiesa e lei, un po' rammaricata, mi diceva, sa, non esiste un libro per bambini dedicato a mio padre, non è bella questa cosa, e allora mi è venuto un po' questo tarlo, mi rimbombava questa idea in mente, e poi parlando proprio con Elvira, lei mi ha dato l'input, prova a scriverlo tu, non è facile scrivere per i bambini e sicuramente non è facile raccontare ai bambini. Sono sicuramente difficilissimo intervistarli, quindi immagino di scrivere per... Assolutamente, infatti soprattutto raccontare delle tematiche tanto forti, perché la vita del generale Dallachiesa è stata breve, è campato circa 60 anni, però è stata intensa, costellata da tanti fatti davvero terribili, a partire dalla guerra lui ha fatto parte della resistenza, però ho voluto provarci, essenzialmente per una ragione, perché io vivo all'interno della caserma Dallachiesa, ho questa fortuna perché faccio di riflesso parte della famiglia dell'arma, e negli anni il mio bambino, passando davanti al busto di bronzo del generale, mi ha chiesto più volte chi fosse questo personaggio che incontriamo ogni giorno, uscendo fondamentalmente da casa nostra. Allora ho iniziato a fare una ricerca, intanto ho lanciato l'assist al mio editore, Ottavio Navarra, il quale è un entusiasta, quindi ha colto al volo l'iniziativa, mi ha dato fiducia, poi ho iniziato per mesi a leggere letteratura per bambini e per ragazzi, che raccontasse di fatti correnti. Perché bisogna avere un... perché il linguaggio cambia, il linguaggio è diverso... Perché il linguaggio... io ho scritto già due libri però per gli adulti, quindi il linguaggio è totalmente differente, io sono mamma di un bimbo di sei anni, leggo tantissimi libri a mio figlio però da lettrice. Volevo entrare nel merito del punto di vista dello scrittore che si rivolge ai piccolini, tra l'altro io non mi definisco scrittrice, sono giornalista, ci provo, diciamo, ho fatto qualche esperimento e allora ho avuto, diciamo, dei numi tutelari, ho iniziato a leggere tanta letteratura che parlasse di guerra, di mafia, di olocausto ed effettivamente un libro per bimbi della scuola primaria su dalla chiesa non esisteva e questo è il primo, il papà dei carabinieri. Cosa racconti in questo libro? Racconto la sua biografia, perché appunto l'obiettivo era quello, raccontare la storia di questo grande uomo, non voglio definirlo eroe, neppure i figli amano che si definisca un eroe, ho avuto comunque dei rapporti epistolari telefonici e poi in presenza con Simona dalla chiesa che ha scritto l'introduzione di questo libro non l'ha mai definito eroe suo padre, ma sicuramente un grande uomo e un uomo per bene. Ed era bello ripercorrere tutte le tappe della sua vita, il suo albero genealogico che vede tanti uomini dell'arma andando all'indietro e anche questo impegno nella resistenza. Quindi io provo a spiegare ai bambini, intanto cos'è la guerra? Parlo della seconda guerra mondiale, paragonandola al conflitto che c'è in atto in Ucraina, racconto della resistenza e poi mano a mano si parla del banditismo, della mafia, delle brigate rosse, anche di tutto quello che ha costellato a vita di dalla chiesa che è stata davvero una battaglia, una vita difficile, però ho cercato di raccontarla con il linguaggio dei bambini, provando a non bleffare. Diciamo che noi, per generazione, vi metto soprattutto io, la mafia l'abbiamo vissuta, toccata con mano, ne vedevamo un po' tutte le tragedie, i morti, lo scrivi anche tu nel tuo libro che appunto poteva succedere che giravi l'angolo e trovavi qualcuno per strada, dicono, era una cosa assolutamente quasi casuale possibile, uno usciva di casa e poi trovava anche la notte in cui fu ucciso dalla chiesa, ma la ricordo perfettamente, benissimo, ricordo il silenzio su Palermo, ricordo queste strade completamente vuote, vuote di auto, vuote della stessa sensazione che poi ho avuto quando a Capaci c'è stata lì sabato la strage Falcone e Borsi Capaci, in quel periodo era ancora, diciamo, stiamo parlando del 23 maggio, comunque già era in piena estate, perché in quel periodo comunque già i locali erano già pieni, quel sabato non c'era nessuno che girava per strada, questa cosa mi ricordo benissimo, ma i bambini di mafia che ne sanno? Tu ci hai parlato, hai avuto modo di poter… Sì, ci ho parlato anche perché, Ignazio, questo libro ha le illustrazioni di bimbi palermitani, che sono i bimbi dell'Istituto Sant'Anna, è un istituto storico che è stato frequentato dai fratelli Mattarella, quindi in pieno centro storico vicino alla caserma, e nel giro di poco hanno realizzato queste illustrazioni e ne hanno sottoposte all'editore, ai grafici, una cinquantina, poi ne sono state selezionate una quindicina, però se leggevi dentro quelle immagini, grazie anche ai racconti delle maestre bravissime, sono state loro a suggerirmi di non bleffare, di non dire bugie, ma di raccontare la verità con un linguaggio a portata di bimbi, e allora loro hanno chiaro cos'è la mafia, a loro misura, anche perché a Palermo è ovvio, è sotto il cielo, le strade sono costellate di targhe, di monumenti commemorativi, quindi i bimbi palermitani lo sanno, sanno cosa significa sparare, io non ho parlato di assassini o di spari, ho identificato gli omicidi raccontati nel libro con un suono onomatopeico, boom boom, è proprio per non impressionare i bimbi, ma loro hanno colto al volo il senso di questo boom, quindi entrare nel loro mondo e spiegare, cercare di spiegare con il loro linguaggio chi sono stati questi uomini che hanno combattuto la mafia che ancora esiste, anche se magari oggi altri volti, altre declinazioni, è fondamentale, meno cruenta, diciamo, meno cruenta, ma ancora c'è e devo dire che gli insegnanti, alcuni anche insegnanti di frontiera fanno bene il loro lavoro educando i ragazzini alla legalità e quando i bimbi del Sant'Anna hanno incontrato Simona dalla Chiesa una settimana fa, dai bimbi di sei anni fino a quelli di tredici ciascuno con la propria maturità, il proprio linguaggio ha reso un messaggio di legalità davvero sincero e molto forte, consentimi Ignazio, parlavamo di illustrazioni, la copertina del libro l'ha realizzata Gabriele Romano, un ragazzo di 16 anni che studia in un liceo palermitano al parlatore e ha incantato l'editore perché ha proprio simbolicamente reso l'immagine più iconica del generale rivisitandola a suo modo. Cosa chiedono i ragazzini? Quali sono le domande che fanno? Cosa ti hanno chiesto in questo percorso per scrivere questo libro? Allora, quando abbiamo fatto l'incontro con Simona dalla Chiesa il 21 di aprile hanno fatto tantissime domande a lei più che a me, le chiedevano di tutto, da cosa si prova a essere figlia di un eroe, se si può perdonare chi ha ucciso il proprio papà o se si crede ancora nelle istituzioni? Questa è stata una domanda che è rimbalzata tanto perché io ho reso il concetto che dalla Chiesa è stato lasciato solo, forse la colpa più grave delle istituzioni italiane a tutte le latitudini. Non lo possiamo negare ormai. Non lo possiamo negare e i figli tuttora. Sotto quel periodo qualcuno ha cercato di… adesso la storia ha la storia, le sentenze ci hanno riportato. Però i figli per certi versi cercano ancora verità e raccontano fortemente di questa solitudine anche nel libro Il papà con gli alamari, la solitudine di Carlo Alberto dalla Chiesa. Hanno fatto fiction, hanno fatto film. È sotto il cielo. Dico quello che si… È sotto il cielo e i ragazzini hanno ben chiaro questo concetto e reclamano delle istituzioni che siano chiaramente, nitidamente antimafia. Quando per antimafia non intendiamo delle coccardine sul petto ma un concetto reale che parta dall'azione quotidiana. quindi ho trovato dei bimbi e dei ragazzini molto molto maturi che mi hanno stupita e questo secondo me è un ottimo segno. Raccontaci di Emanuele. Allora, Emanuele è un ragazzino. Io appunto ho il privilegio di vivere nella caserma dalla Chiesa in questa bella famiglia che è l'Arma dei Carabinieri. Non è mio figlio, non è un bimbo che conosco, ma è un bimbo ideale. Sono anch'io un po' Emanuele perché quando ho iniziato a vivere all'interno di una caserma dei Carabinieri mi stupivo, era tutto nuovo. Emanuele è figlio, è nipote di un colonnello dei Carabinieri, è figlio di un ex bimbo della caserma che si svegliava con il suono dell'alza bandiera. Voi non vuoi, chi cresce in un ambiente militare cresce inquadrato in una certa maniera. Emanuele è un bambino curioso, è un bimbo che fa tante domande e come i bimbi di oggi, questi fantomatici nativi digitali, ha le antenne sempre puntate in alto, capisce tutto al volo e capisce anche oltre quello che suo padre, che gli racconta la storia, possa immaginare. Poi ho voluto che il papà di Emanuele fosse un giornalista, questo per il grande amore. E come gliela racconta questa storia? Lui gliela racconta in maniera molto sincera. Perché dico, io credo che da quello che ho potuto vedere, dicevi appunto tu che non bisogna prendere in giro i ragazzini, quindi le cose bisogna spiegarle, poi ti farò un'altra. Però dico, il linguaggio deve essere chiaro, il malvivente, il mafioso deve essere riconoscibile in queste storie. Assolutamente, peraltro io quando iniziavo ad abbozzare il mio libro e lo sottoponevo all'editore, lui mi pregava di non avere mai un piglio da maestrina, perché i bimbi non accettano questo piglio, non si usa neppure a scuola, più con i nuovi metodi didattici, assolutamente. Il patto comunicativo padre-figlio della voce narrante è un patto di sincerità, anzitutto, di schiettezza. E Emanuele è un bimbo che come tutti i bimbi di oggi fa duemila domande, quindi interrompe il papà, gli chiede i punti e le virgole della narrazione e ovviamente parlando di dalla chiesa dobbiamo spiegare cos'è un generale dei carabinieri, cos'è un prefetto, cos'è un giudice, quindi cerco di spiegare con il linguaggio cos'è anche una laurea, perché dalla chiesa ne consegui addirittura due. Cerco di spiegare con il linguaggio spicciolo ma non banale, anzi tutt'altro, dei bambini, cosa sono queste figure. Quindi è sicuramente un registro sincero quello che un padre dovrebbe avere con i figli e gli racconta questa storia nell'arco nel tempo di una passeggiata, dall'ingresso del reggimento fino ad arrivare al busto di dalla chiesa. Tu sei venuto tante volte in caserma, sai questo percorso quanto è lungo, con le soste, con uno sguardo anche al tricolore che svetta sempre all'interno della caserma fino alle sei del pomeriggio. È un occhio a questo bellissimo panorama della cattedrale di Palermo. Tu parlavi appunto di essere sinceri con i ragazzini, come l'hai raccontato l'omicidio? L'omicidio di dalla chiesa l'ho raccontato in quattro parole, ho usato questo boom, non spoilero troppo, però è stata una narrazione proprio asciutta e immediata. Lì mi è venuto in aiuto il mestiere, il nostro mestiere di cronaca, non bisogna girare troppo intorno alle cose, ma mi sono soffermata soprattutto nello spiegare quello che succede dopo, perché quando a un bimbo dici che muore l'eroe, lì ci vuole il termine eroe, parlando di struttura della storia, lo potresti lasciare senza fiato, devi giustificare il perché di quel finale che non è lieto, ma che può diventarlo, perché se dalla chiesa viene ucciso, però poi lui rimane eterno e hanno il compito di continuare questa eternità. Solitamente nelle favole, però l'eroe non muore, diciamo. Solitamente no, questa è una favola ispirata a una storia vera, quindi sta a noi rendere lieto il finale, facendo in meno. È l'unica spiegazione che si dà e che hanno chiesto i bambini è perché è rimasto solo o c'erano altre motivazioni che sono venute fuori da questa? Ma ti dirò che i bimbi stanno facendo, anche i genitori, tante domande relative per esempio al fatto che oggi magari non è più rischioso come un tempo fare il carabiniere, perché molti bimbi hanno il papà carabiniero, poliziotto, anche giudice, e quindi chiedono il perché questa sicurezza da cosa nasce e i genitori stanno spiegando che nasce dalla consapevolezza, ma anche dal sacrificio di questi uomini. E lì mi riallaccio a un discorso che mi fa sempre il giudice Asaro, che ha scritto una prefazione preziosa secondo me. Fernando Asaro, che è procuratore a Marsala, quando io tanti anni fa per ragioni giornalistiche l'ho conosciuto, lui era alla DDA di Palermo, mi raccontò in un'intervista che lui diventò magistrato, scelse di diventare magistrato dopo aver conosciuto Carlo Alberto dalla Chiesa, al Gonzaga, nell'anno fatidico. E di quello che parla appunto della professione. Sì, assolutamente, nella primavera dell'82. E allora lui dice sempre, Asaro, e lo ha detto anche nelle presentazioni relative al libro, che oggi camminiamo in un'autostrada, i magistrati, i giornalisti, le forze dell'ordine. Questa autostrada, ai tempi di Dalla Chiesa, era una trazzera di campagna e penso che appunto la spiegazione che chiedono i bimbi, perché adesso possiamo fare i carabinieri, i giudici, i poliziotti, senza necessariamente avere il timore di essere ammazzati, sta nel fatto che uomini come Dalla Chiesa, ma come tutti i grandi uomini che hanno lottato per la legalità dando la vita, hanno costruito questa autostrada. Scrive appunto Asaro la rapprovazione che Dalla Chiesa, la prima volta che è arrivato al Gonzaga, è arrivato in taxi. E questa è una cosa che tutti si aspettavano, il grande uomo e il grande E, è arrivato assolutamente in taxi, senza da solo. Da solo, col sorriso, con umiltà. Ma sai anche tanti aneddoti che mi hanno raccontato dei carabinieri, ottantenni, in pensione, degli spaccati di Dalla Chiesa che per ragioni intime non racconterò, perché loro alcune cose mi hanno chiesto di non raccontarle, però le ho raccontate alla figlia Simona, un'umanità che lasciava disarmati, una generosità che lasciava disarmati anche verso il bisogno personale del carabiniere, anche ragazzino, non necessariamente dell'ufficiale. Lui non a caso l'abbiamo definito il papà dei carabinieri proprio perché aveva questo atteggiamento contenitivo verso i suoi uomini, era la sua famiglia. E nella caserma Dalla Chiesa si perpetuano tutt'oggi delle tradizioni che fanno corpo, che fanno famiglia, che ha ideato lui, per esempio la messa alla notte di Natale, ma anche i riti del Natale, perché lui faceva arrivare Babbo Natale per i bimbi, perché i nonni lontani avevano le famiglie, avevano solo mamma e papà, non avevano parenti dentro la caserma, o il rito del brindisi la notte di Natale. Il legame con gli studenti è sempre importante perché tante lezioni di legalità vengono fatte con tanti studenti, quella caserma per i ragazzi è sempre aperta perché fanno un sacco di incontri per cercare di creare questo legame, secondo me proprio l'idea era quella sempre di fare vedere i carabinieri dentro la società, assolutamente disponibili alla società e mai un corpo estraneo. Assolutamente, nascono per questo, del resto. E lui su questo puntava tantissimo, tant'è che incontrava tantissimi studenti, e tu incontrerai tantissimi studenti con questo libro? Stiamo iniziando a fare qualche giro delle scuole, quindi sono contentissima, certo siamo usciti un po' a fine anno, però cominciamo adesso, il 10 maggio saremo a Ficarazzi con il procuratore Asaro, all'istituto Livatino, e siamo stati proprio invitati di cuore dal dirigente scolastico e il 19 saremo a Casteltermini per una bella manifestazione antimafia, sempre con il procuratore Asaro a parlare con i ragazzi, penso che le coscienze, ma nella maniera più semplice, più bella, si creino lì senza usare paroloni, ma perché io ho poco da raccontare, il libro che ho avuto il piacere di scrivere racconta la storia di un grande uomo, allora se procediamo con questi grandi esempi e senza troppa retorica, forse un semino buono lo possiamo mettere? Sì, perché poi si rischia sempre di ricordare queste persone il 3 settembre per quanto riguarda dalla Chiesa, il 23 maggio o il 19 luglio per le altre due, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e poi magari tutto l'anno diciamo, quindi ben vengano queste iniziative, infatti io ti ho appena ho visto il libro e mi hanno dato appunto le note, mi ha appassionato tantissimo, anche perché secondo me proprio parlare ai ragazzini è la cosa più complicata, se si riesce effettivamente lì, fra qualche decennio forse qualcosa realmente cambia, perché non si capisce per quale motivo poi gli adulti diciamo a questi, e mi ci metto pure io diciamo, davanti a queste figure, davanti a queste persone che hanno dato veramente la vita, quindi non si capisce cosa si può dare di più, si fa in maniera, diventa molto difficile devo dire, è molto complicato anche denunciare o fare una scelta diciamo di campo in maniera chiara e distinta, perché come dici tu nel libro, lo spieghi benissimo, la mafia è una delle cose peggiori, la definiamo come la cosa più brutta che c'è in Sicilia, e la racconto alla spicciolata, facendo esempi proprio di vita pratica, la mafiosità spiegata ai bambini, quella che sta nelle piccole cose, nel soppruso, nella prepotenza, nel bullo, che è un fenomeno ahimè, esatto, di cui tu ti occupi tantissimo, esatto, quindi dico questi sono temi che assolutamente i bambini che hanno ancora diciamo la giusta attenzione e la poca malizia diciamo, sono terreno vergine, almeno speriamo diciamo per poter parlare appunto di queste cose, soprattutto con queste persone diciamo, quindi rendere questo messaggio più alla portata di tutti. Allora, quindi io invito davvero tanti, anche tante famiglie appunto a comprare e leggere questa che è una favola, una favola molto interessante, sicuramente molto piena di tanti temi e di tanti elementi su cui poter riflettere. Io ringrazio davvero, come vedi, il tempo è volato, è volato tantissimo. Grazie a voi. Io ringrazio davvero Manistella Pane Pinto, appunto ricordo che è il giornalista che ha scritto questo libro per i bambini, Carlo Alberto Dallachiese, il papà dei carabinieri. Io vi auguro una serena giornata e vi saluto e vi auguro davvero una buona giornata. Grazie, buona giornata.